Perché tutti questi anni ho incontrato molti investigatori e molti di loro non assomigliavano affatto ai personaggi che avevo già raccontato, per cui volevo raccontare un personaggio, Vogel, che assomigliasse molto alla realtà. A Vogel non interessano cose come il DNA, le impronte digitali, le indagini scientifiche. Lui utilizza i media per risolvere i casi, crea un interesse nell'opinione pubblica e sfrutta quello per individuare un mostro. Se poi questo individuo è colpevole e innocente non conta, ciò che conta è lo spettacolo. Qui si parte da una scena emblematica. C'è l'incontro di uno psichiatra con questo poliziotto, Vogel. Questo incontro avviene alcuni mesi dopo un caso di scomparsa di una ragazzina in un piccolo paese di montagna che si chiamava Shaw. Di questo caso si è occupato Vogel. Questo caso è stato di grande successo, ma non ha avuto una soluzione. Vogel torna sul luogo alcuni mesi dopo senza alcuna ragione. Ha un incidente stradale durante una notte di nebbia, ma la cosa singolare è che quest'uomo viaggiava da solo, è in colume, ma i suoi vestiti sono sporchi di sangue. A chi appartiene quel sangue? Questa è la storia di una scomparsa di una ragazzina, ma è anche la storia di un poliziotto che probabilmente cerca di catturare il proprio demone, con un finale che farà molto arrabbiare i lettori. Mi è bastata la mia esperienza. Un po' di anni fa, nel 2010, io ho seguito il caso di una sparizione di una ragazzina per un noto giornale italiano che è il Corriere della Sera. Questa sparizione è venuta in un piccolo paese del sud Italia. Al centro di questo paese c'era una pizzeria, che era sull'orlo del falimento. Però improvvisamente, dopo che questo caso è scoppiato sui media, in paese sono arrivati i cronisti, i cameraman, i giornalisti, ma anche i cosiddetti turisti dell'orrore, cioè gente comune che aveva visto in televisione il caso, che voleva visitare i luoghi del delitto. Tutta questa gente doveva mangiare e c'era solo questa pizzeria. E questo proprietario si è dovuto attrezzare per sfamare questa mole di gente sia a pranzo che a cena. Stava per fallire e è diventato ricco. Quello che nessuno dice è che il crimine è un business. È un business per la piccola comunità in cui avviene, ma è un business anche per i media. Per esempio le televisioni possono tranquillamente coprire il caso inviando un cameraman e un giornalista. E fanno ore e ore di programmazione. Guadagnano dalla pubblicità. Costa meno di una serie tv. Assolutamente. Verissimo. C'è molto di Twin Peaks, ma perché, come dire, la piccola comunità attrae sempre molto l'immaginario collettivo. Se avviene un omicidio o una sparizione in una grande città come Parigi, diciamo che questo crimine si disperde in qualche modo. Ma se avviene in un piccolo centro delle Alpi in cui non è mai avvenuto niente, tutto cambia, perché tutti gli abitanti di quel posto diventano improvvisamente colpevoli. Allora chi ha rapito a Annalou. Io prometto una cosa con questo romanzo. Che ci sarà molta paura. Fino all'ultima riga. E che questa paura continuerà a seguire il lettore oltre l'ultima pagina. Non basterà chiudere il libro.